ingegnere buongiorno scusate se non discutiamo in questo momento di trovarimola a imola volevamo sapere se è lei che ha curato la costruzione dell'f488 gt3 ci siamo trovati benissimo abbiamo dovuto fare una carrozzeria molto leggera in carbonio perchè faceva fatica a risolvere a motori 8 cilindri il 10 cilindri per noi non andava bene perchè non è un'auto pesante altissima e anche leggera a sua volta quindi volevamo un'auto leggera e veloce e agile capisco capisco la ringrazio scusi se non l'ho tolto a questo tempo l'ultimo dato velocità di punta quanto? 3 300 km all'ora? esatto! testata sul rettilineo di imola di monza entrambi vedo che voi della ferrari non lasciate niente al caso mi dia un 5 e continui pure a dar filo da torcere ai suoi addetti ai lavori grazie ingegnere Locco Biscotto e alla prossima fate il cuore lo dai serviettale suuuu fa bellissimo Grazie per la visione!